Salve a tutti i telespettatori del canale Opinione di Luzio, siamo qui a Recanati per una visita turistica e culturale e insieme a Luzio stiamo guardando la casa di Leopardi e Luzio ci dirà qual è la camera esattamente di Leopardi. Adesso quando Luzio ha smesso ha finito di perdere tempo con il suo cellulare, inutile. Luzio scusa se puoi un attimino dedicare 5 secondi ai tuoi telespettatori. E mi può aiutare a fare una cosa, cioè individuare qual è la camera di Leopardi. Mi stai ascoltando? Dicevo ai nostri telespettatori che questa è casa Leopardi, se tu sei un esperto mi può aiutare a capire qual è la camera. La camera? Si. Quello col balcone. Qua. E' tutto un balcone. Il balcone qua, guarda questo. Lì si affacciava nella mattina per scrivere la Silvia. Ma puoi vedere che non si vede? Si. Lì scrive a Silvia. Silvia lo sai che Giacomo si buca ancora. Ascolta Silvia, ma quindi Stileopardi stava bene questo Giacomo? Si, hanno fatto anche il vino con Stileopardi. Cioè era un viticoltore, cosa faceva nella vita questo ragazzo? Faceva tutto, c'aveva anche le scuderie. Quindi era un allevatore di cavalli viticoltore? Viticoltore, si. Ha fatto anche i libri, anche i libri. Faceva i libri, era un editore. No, c'è Leopardi libri c'è scritto. Leopardi, quindi era un editore, stampava, vendeva. Ha fatto un po' di tutto. Era un imprenditore. Io penso che... E' famoso questo Giacomo. Ha preso il cognome, l'hanno preso tutti qua. Gare Canati ha preso tutti. Ah, quindi tu dici adesso questi hanno... Però il Leopardi originale non era viticoltore, allevatore. Cosa faceva? Cos'è che l'ha reso famoso? Perché aiutaci a ricordare... Il corpo che gli è cascato in groppa e l'ha fatto diventare Gobbo, ha preso l'invalidità e la possibilità di avere dei soldi pubblici, ha dato la possibilità di avere delle spiccati doti, diciamo, date dalla propria mano penna. Perché dedicarsi durante la giornata non a zappare la terra, che era una realtà quotidiana del vivere dell'Ottocento, a lui naturalmente con la pensione di maledità anticipata logicamente si è salvato e ha tirato un sollievo di sospiro e naturalmente ci ha fatto un gran regalo. Non vorrei pubblicizzare o reclamizzare più pensioni di maledità che rendono menti più elevati, però logicamente nemmeno non so se la zappa forse nobilita l'uomo. Queste sono tutte, diciamo, perplessità che ho più in riduzione pone i propri telespettatori. Quindi Leopardi, scusa la domanda, perché cerchiamo di fare chiarezza per i nostri telespettatori, io cerco di mettermi nelle loro panni. Lei da accendere ce l'ha? No. Leopardi, diciamo, un pochettino intellettuale, come posso dire, non tanto utile alla società, che era un po' perso nelle sue cose, non so. Vorrei capire, non direi, non direi. No, ho capito male il suo pensiero. Non direi, non direi. Allora, come lo vede lei? Inutile sprecare il proprio tempo in qualche cosa che naturalmente il tempo poi non ti ritorna indietro. Allora, se invece questa cosa di Leopardi non scrive, gli è tornato indietro il tempo, perché tutto quello che è scritto oggi, nel 1870-80, mi ricordo l'annata, mi sembra che gli sia ritornato indietro, perché ancora oggi gli scrivono lettere di quello che è scritto 130 anni fa. Il suo coetaneo di Giacomino, che abitava in quella... di fianco, alla mattina si alzava solo per zappare la terra. Non c'è nessuno nel 2013, ma nemmeno 50 anni fa, che sta lì a pensare a lui e a scrivergli. O comunque sia a coltivare la stessa passione, o dire faccio la stessa cosa che hai fatto tu, in maniera proprio... dedicando anima e corpo e facendo anche un'educazione anche popolare o scolastica in altri luoghi per moltiplicare quella tipologia di fare. Invece su Leopardi vedo che ci hanno fatti i vini, le scuderie, libri, poesie, viaggi turistici, gente che gli scrive, gente che lo coppia, gente che vuole i suoi diritti sulle poesie e tutti che vogliono mangiare su quella fetta. Quindi saluto voi, voi telespettatori... Quindi Leopardi è ricchezza nazionale in un certo senso. Sì, se il più fortunato Giacomo o Giacomino il vicino, che avevano lo stesso nome, ma purtroppo uno di Raiino, Giacomino e l'altro Giacomo. Però Giacomo originale aveva la gobba, aveva l'invalidità... Quella è stata la fortuna, il coppo che gli è cascato. Quindi lei dice a volte che alcune sfortune che apparenti possono anche essere delle fortune, lei mi dice. In giovine età poi è capitato. Deve capitare presto. Il tempo del suo estro artistico di potersi costruire come poeta. Se il coppo gli cascava a un'ottantenne, cosa gli vuoi generare? Non te parte la poesia, è troppo tardi. E' interessante questa riflessione, cioè la sfiga, tra virgolette, me lo passi come forma di fortuna alternativa. Leopardi era diversamente fortunato. Certo. Interessante. Questa è una bella riflessione. Lì per lì ha avvertito dolore col coppo, perché logicamente l'immediatezza giovane la capisce subito, quello che gli viene subito e mi ha detto, ah sto male. Poi con altrimenti la maturità dell'età ha raggiunto questa probabilità che stava bene con se stesso. Dopo le canali gli sembrata stretta è andata a seppellirsi a Roma, logicamente, e a vivere in altre città, non so, perché forse Giacomini gli rompevi i coglioni, che non voleva zappare manco lui. Sai quelle solite... Eh, quelle solite... Te sei a casa, quando c'è la goba... Eh, non mi puoi da un posto anche a me, una mezza posia me la puoi passare, la scrivo anch'io. Però vabbè, lui dopo se l'ha rotto un po' le palline, questo Giacomino. Questa però è una leggenda popolare recanatese, logicamente. Noi siamo qui a Recanate, abbiamo perlustrato il territorio e ci è giunta questa voce, sempre perché l'opinione di Luzio porta opinioni al ribalto. E tutto qui insomma ragazzi, non lo so, se vogliamo adesso facciamo anche un giro di voci turistiche. No, no, vabbè, facciamo un giro turistico, non rompiamo i coglioni turistiche. No, rompiamo i coglioni turistiche. Sì, già rompiamo i coglioni telespettatori.